Che il Regno Unito fosse impazzito per il ciclismo era chiaro ormai da tempo, ma ora ne abbiamo l'assoluta conferma, perché domenica 10 agosto si disputerà tra le strade della stupenda Londra la seconda edizione del Ride London Classic. Questa gara sarà perfetta per le ruote veloci e si inserirà in uno splendido weekend londinese all'insegna delle biciclette. La partenza sarà data dalla zona est della capitale poiché si scatterà dal Parco Olimpico, dopodiché seguendo a tratti il tracciato dell'Olimpia del 2012 la corsa si trasferirà nella campagna intorno a Londra prima di rientrare nel cuore della capitale britannica per l'ormai abituale e suggestivo arrivo su The Mall di fronte a Buckingham Palace, dove l'anno passato vinse il francese Arnaud de Mar e dove quest'anno all'ultimo tour trionfò il tedesco Marcel Kittel. Come potrete immaginare la starlist sarà imbottita di velocisti, partendo proprio da Kittel che dovrà vedersela con Boss, Viviani, Sagan, Goss, Ciolek, Bolen e molti altri. Grande attesa ci sarà pure per la Sky di Wiggins e forse di Froome. Dunque l'amore britannico per il ciclismo verrà ribadito dopo lo stucchevole inizio della Gran Bucla 101. Hola!